Questo video è finalizzato a proporre alcuni ragionamenti per la risoluzione della batteria numero 60 dei test di preselezione per il concorso a cattedre del 2012. Se la lettera N identifica una qualunque cifra e la lettera P identifica una cifra pari, la lettera D identifica una cifra dispari, allora si va a cercare di capire il prodotto tra i prodotti N per P e P per D. N per P, N cifra qualsiasi e P pari è un numero pari perché è ancora divisibile per 2 e lo stesso si può sapere già per P per D perché è ancora divisibile per 2. Abbiamo quindi il prodotto tra due numeri pari e sicuramente il risultato è un numero pari, quindi la risposta 1. Anche qui una rappresentazione alfanumerica. Se l'ic significa cifra singola divisibile per 4, l'ec cifra singola divisibile per 5 e l'ac analogamente per 9, allora con quale scrittura può essere espresso il numero 89? La prima cifra del numero 89 è 8 che è divisibile per 4 e quindi sarà una l'ic e la seconda cifra è un 9, quindi è divisibile per 9 e sarà una l'ac. L'ic l'ac è la seconda delle ipotesi in esame. Vediamo dal punto di vista insiemistico. Posti A è un insieme contenente due soli elementi A ed U e B, l'insieme delle vocali, si cerca l'insieme complementare di A. L'insieme complementare di A è un insieme che contiene tutti gli altri elementi di B, in questo caso, che non sono contenuti in A. B è l'insieme delle vocali, le vocali non contenute in A sono la E, la I e la O. E quindi la risposta è la numero 1. Completare correttamente la successione numerica in esame per vedere il ragionamento. me la sono riportata qui. E' questa, sì. 65, 73, 82, ok. Andiamo a vedere, visto che c'è la richiesta per un unico numero, è possibile che si componga di un'unica successione e non di due successioni intervallate. vediamo le distanze tra un elemento e l'altro, qui sto sommando 8, tra questi due elementi sto sommando 9, tra questi due sto sommando 7, tra questi due sto sommando 8, tra questi due sto sommando 9. vediamo che c'è un'ulteriore sequenza sopra 8, 9, 7, 8, 9, si presume che qui ci sia una somma di 7, quindi 106 più 7, 113, da cercare nelle risposte possibili, in questo caso è la risposta numero 4. Un'equazione con simboli un po' strani, non sono x e y, vediamo di assegnare a questo simbolo meno 2 ed è da questa parte, se il simbolo di internet che è uguale a 1 è da questa parte, qui ho già meno 2 più 1 che fa meno 1. dall'altra parte ho un meno 1 che è portato a primo membro, diventa un più 1, che annulla il meno 1 precedente, e quindi ho 0 uguale meno cancelletto più 5, porto il cancelletto a sinistra, cancelletto uguale 5. e quindi la risposta giusta è la 3. Io queste le scriverei se è possibile utilizzare un foglio. Anche qui abbiamo un sistema di due equazioni, in tre incognite sono i simboli che compaiono, e a meno che non ci sia un'identità il sistema è irrisolvibile, quindi vediamo se, ecco il simbolo della lira, se quello vale 5, beh ci sono molte combinazioni possibili per individuare il valore degli altri due simboli, le soluzioni sarebbero infinite e quindi non ci sono elementi sufficienti per rispondere, cioè non c'è un solo valore di questo simbolo che soddisfa l'equazione. Completare correttamente l'altra successione numerica, vediamo di analizzarla sempre con un ausilio, 3, 5, 7, 10, 11, 15. Visto che la richiesta è di due elementi, io prima di provare ad alternare un elemento all'altro, proverei ad alternarli di due, quindi sotto questa informazione, mi chiedono due elementi, suppongo che ci siano due successioni separate. alternate chiaramente. Da 3 a 7 sommo 4, da 7 a 11 sommo 4, e quindi ipotizzo che la successiva somma sia 4 anch'essa e che quindi qui il numero sia 15. Da 5 a 10 sommo 5, da 10 a 15 5, e quindi ipotizzo che il numero che completa la serie, la successione in questo caso, sia 20. Andiamo a vedere se c'è 15 20 nelle possibilità, è la numero 2. Con quali delle seguenti figure geometriche non è possibile pavimentare una superficie piana? Pentagoni equilateri regolari, triangoli equilateri, esagoni regolari o rettangoli. La riflessione che ho fatto per rispondere a questa domanda è la seguente. Nel momento in cui io devo pavimentare, per esempio con dei triangoli, io effetto un completamento, ecco qui nel punto di intersezione, di un angolo giro che è di 360 gradi. Dovendo completare quell'angolo giro con un certo numero delle figure che ipotizzo possano completarlo, mi devo andare a chiedere gli angoli interni di queste figure quanto valgono. Gli angoli interni di queste figure eseguono la regola che il numero di lati a cui si sottraggono 2 per 180 gradi è il valore degli angoli interni. Quindi in questo caso una somma che è 180 gradi. Qui ho 4 lati meno 2, quindi è 2 per 180, 360. Qui ho 540 gradi e qui ho n uguale a 6, 6 meno 2, 4, 720 gradi. Da distribuire sugli angoli interni, quindi ogni angolo interno, in questo caso è 720 diviso 6, 120 gradi, 540 diviso 5, 108 gradi, 360 diviso 4, 90 gradi. E nel triangolo 180 diviso 3, 60 gradi per la regolarità delle figure. Beh, diciamo, se unisco 6 di questi arrivo a 360 gradi e ho completato la parte interna, se ne unisco 4 di questi arrivo a 360 gradi e quindi con perfetti triangoli raggiungiamo i 360 gradi. Beh, qui la moltiplicazione per un numero intero non riesce a darmi i 360 gradi, mentre qui 120 gradi è possibile moltiplicarli per 3 per ottenere i 360 gradi. Quindi con i pentagoni non è possibile completare la figura che era stata richiesta. Io farei un'osservazione sulla domanda, nel senso che ho dato per sottointeso che pavimentare una superficie significhi riempirne tutti gli spazi e quindi di conseguenza non è possibile farlo con i pentagoni regolari. E vediamo delle affermazioni o delle negazioni come impattano sulle risposte possibili. I sardi sono ospitali, Paolo è ospitale, alcune persone ospitali sono simpatiche. Quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? Non si può dire se Paolo sia o meno simpatico. L'unica affermazione su Paolo è che sia ospitale. E non c'è nessun'altra affermazione che prende in partenza il fatto di essere ospitale e ne fa conseguire qualcos'altro. Se ci fosse stata chi è ospitale è simpatico, allora questa affermazione in realtà non porta in conto della simpatia o meno di Paolo. Allora non si può dire se Paolo è o meno simpatico, in effetti non lo si può dire perché nessuna delle affermazioni precedenti mi dà informazioni in quella direzione. Non posso dire, quindi questa affermazione è vera, Paolo è sardo, non lo posso dire perché non c'è nessuna conseguenza al fatto che Paolo sia ospitale, che lo renda per forza sardo. Come non c'è conseguenza che lo renda simpatico e che i sardi siano tutti simpatici, non lo posso dire perché l'unica affermazione è che i sardi qui siano ospitali. Se l'affermazione a nessuno studente sono antipatici tutti i professori è vera, allora è necessariamente vero che tutti i professori sono simpatici agli studenti. Beh no, ci possono essere dei professori antipatici, mettiamo uno studente, prendiamo in esame uno studente. Uno studente ha in antipatia non tutti i professori, perché l'affermazione dice che a nessuno studente sono antipatici tutti i professori, ma può averne in antipatia alcuni, quindi non tutti i professori sono simpatici. Scelto un qualsiasi studente c'è almeno un professore che gli è simpatico. Questa sì perché a nessuno studente sono antipatici tutti i professori e così in esclusione sulle altre. Vediamo la prossima. Il presidente dice al giocatore, se giochi come attaccanti, a meno che te lo chieda l'allenatore, non devi tirare mai in porta se non di testa. Quindi lui può tirare in porta di testa se gioca come attaccante. Se poi l'allenatore gli dice qualcosa, può tirare in porta anche non di testa. In quale dei seguenti casi il giocatore non segue le indicazioni del presidente? Il giocatore gioca come attaccante. L'allenatore non gli chiede nulla, tira in porta e segna con il piede destro. Quindi ha tirato non di testa, ma l'allenatore non gli aveva chiesto nulla e quindi questa ipotesi non fa seguire le indicazioni del presidente. Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente 5 volte? è la prima e la W è la lettera, una successione diciamo alfabetica e anche qui il supporto è forse necessario. Se associamo i numeri che identificano le posizioni nell'alfabeto italiano di queste lettere, abbiamo che la U è nella diciannovesima posizione, la S è nella diciassettesima, la P nella quattordicesima e la L è nella decima. Proviamo a vedere se c'è una sequenza tra questi numeri, 2 è la distanza incalata tra 19 e 7, 3 tra 17 e 14 e 4 tra 14 e 10. Si ipotizza quindi una diminuzione di 5 unità e nella posizione 5 a b c d e abbiamo la e come risposta, quindi la numero 3. Con riferimento alla figura in alto, la figura noi ce la mettiamo in basso, individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica tra questi elementi. elementi. Scrivanie, fotocopiatrici e uffici. E diciamo se un oggetto è una scrivania non può essere una fotocopiatrici e tantomeno un ufficio, anche una fotocopiatrici non può essere un ufficio, quindi i tre insiemi sono disgiunti e quindi rappresentati attraverso il diagramma numero 6. Vediamo la relazione insiemistica tra mammiferi, asini e aquile. Gli asini sono dei mammiferi e quindi sono contenuti nell'insieme dei mammiferi, contenuti propriamente, quindi interamente contenuti. Le acule sono degli uccelli e quindi separati dai mammiferi e quindi è il diagramma, quindi un insieme, quello dei mammiferi, degli asini contenuti nei mammiferi, completamente, e acule separate, quindi il diagramma è il numero 2. E anche qui relazione insiemistica tra anfratti, colline e pianure. Anche qui l'una esclude l'altra, se un pezzo di terra è una pianura non può essere una collina, non può essere un anfratto, e così via anche per gli altri due, quindi tre insiemi disgiunti, e quindi è il diagramma 6 a rispondere alla domanda. Con riferimento sempre alla figure, ragionieri ragusani, ragionieri radioamatori e ragionieri rasati. Sono tutte e tre ragionieri, quindi ci deve essere un'intersezione tra i tre insiemi e ci possono essere anche intersezioni a 2 a 2, nel senso che i ragionieri ragusani possono anche essere radioamatori, oppure dei radioamatori possono essere rasati o dei rasati ragionieri possono essere ragusani. Il diagramma 5 è quello che caratterizza questa relazione insiemistica. Piante sempreverdi, piante d'appartamento e serre. Le prime due sono piante e la terza è una serra, quindi un oggetto di tipo diverso, quindi la serra è separata. Piante sempreverdi e piante d'appartamento, beh ci sono delle piante sempreverdi che non sono d'appartamento e delle piante d'appartamento che non sono sempreverdi. Quindi i due insiemi sono intersegati, con un'intersezione non nulla, ma non sono né sovrapposti e né inclusi l'uno nell'altro. Quindi intersezione tra le due piante, piante d'appartamento e sempreverdi, e le serre su un insieme che è disgiunto. Qui comincia l'altra batteria e con questa batteria 60, domande di logica, ci fermiamo.